Ritiene di essere stato trattato ingiustamente dalla pubblica amministrazione. La sua pratica procede a rilento e non sa per quale motivo. Vuole verificare la situazione e gli aspetti giuridici, ma non sa come fare. Allora, il suo è proprio un caso per la difesa civica. Si ritiene trattato ingiustamente oppure si sente soprafatto dalle amministrazioni, istituti, servizi medici, comunità o autorità statali. La difesa civica è gratuita per tutti e la aiuterà nei suoi diritti. Esaminiamo il suo caso, ci adoperiamo per una soluzione e ci assicuriamo che il provvedimento amministrativo o la procedura siano legittimi e tempestivi. In caso di conflitti, siamo sempre dalla sua parte. Inoltre, possiamo proporre dei suggerimenti e delle modifiche riguardo a leggi o a organi al servizio provinciale. Venga in difesa civica per parlare in modo riservato con il nostro personale esperto a Bolzano, Bressanone, Merano e Brunico o durante le ore di consultazione esterna nelle altre comunità più grandi. La difesa civica della provincia autonoma di Bolzano.